La fotografia è uno di tanti strumenti per conoscere e per conoscersi. Ciò che più amo è proprio entrare in contatto con le persone e le loro storie. Che sia una coppia di sposi, una famiglia che intende immortalare un ricordo o semplicemente qualcuno che desideri farsi ritrarre in studio. Per me tutto passa attraverso i loro racconti. Conoscere le persone, le loro storie e avere il privilegio di poterle raccontare. Questa per me è la fotografia.